Io sono Irene, ho fatto il Master MABAC Management dei beni delle attività culturali e ho scelto di fare questo Master perché avevo una formazione accademica di tipo umanistico classico e sentivo che mi mancava la parte economica manageriale. In più desideravo fare un'esperienza all'estero che non avevo potuto fare nel corso della mia carriera accademica. Quello che poi ho scoperto e quello che è stato il risultato più positivo di questo Master, oltre al fatto di aver trovato un lavoro nel mio settore, adesso infatti mi occupo dell'organizzazione di mostre fotografiche presso la Casa dei Tre Oggi di Venezia, è stato sicuramente quello di entrare a far parte di un network professionale e umano che condivide esperienze e condivide anche la possibilità di darsi una mano quando ce n'è bisogno per creare una rete in questo settore. Grazie. 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 Grazie.